musica uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi parliamo come sempre di leaks di fortnite ormai siamo nel pieno della settimana numero 8 ieri sono uscite le sfide quanti di voi le hanno completate di già dai forza tutti qua sotto tutti un bel like per chi ha completato le sfide della settimana numero 8 purtroppo ragazzi abbiamo visto che non ci ha dato nessuno wallpaper è un peccato è un peccato doveva essere quello che in realtà si sono spoilerati di prepotenza la settimana scorsa ma amen che ci dobbiamo fare cos'è andata così ce la teniamo ragazzi con un giorno di ritardo dall'uscita delle sfide della settimana 8 abbiamo già le nuove sfide della settimana 9 e c'è una novità che è veramente proprio è una roba che se questo leak ragazzi è fondato e io spero e credo proprio di sì perché ne ho già presi altri da qui e si sono rivelati tutti veri avremo un grande ritorno avremo un grande ritorno sfida numero 1 ragazzi 5 stelline del pass battaglia danneggia i nemici con armi esplosive 5 stelline ovviamente 500 punti esperienza per chi ha già il pass battaglia maxato quindi utilizzate esplosivi telecomandati lanciarazzi lanciagranate granate appiccicose tutto quello che esplode va benissimo sfida numero 2 ragazzi cerca dei forzieri in moisty mire moisty mire deve essere se non ricordo male il putrido pantano fatemi dare un'occhiata se dico una porcata o è vero moisty mire è il putrido è il putrido pantano mi ricordavo bene quindi 7 chest nel putrido ce ne sono veramente tantissime da trovare non dovrebbe essere così un dramma prenderle avanti ancora ragazzi ve la dico dopo quella lì ve la dico dopo un'altra penultima sfida da 5 stelline visita dei crateri dei meteoriti 3 per la precisione in ogni in una partita quindi 3 crateri da visitare in una singola partita altrimenti la missione non vale bene riazzerato il counter se vi killano ve lo dico ve lo dico sapete qual è ragazzi la missione per le 5 stelline l'ultima missione di quelle facili usa un carrello quindi quindi sembrerebbe che ci sarà il grande ritorno del carrello della spesa nella settimana numero 9 la penultima settimana prima della chiusura della season 4 e vedrete che in questi ultimi 14 giorni le notizie saranno veramente sfrigolanti come il becco la mattina andiamo nelle sfide quelle difficili ragazzi quelle da 10 stelline ce n'è una che dice la stella segreta ovviamente cerca tra movi titles movi titles dovrebbe voler dire non è cineprese movi titles titles titoli dei film vorrebbe dire cerca tra i titoli dei film io qua non saprei interpretare e non ho veramente trovato altro che potesse spiegarmi meglio questa quindi se qualcuno sa qualcosa di meglio ragazzi ce lo dica qua ovviamente cercheremo di saperne di più e faremo il video sulla stellina segreta stellina da recuperare sempre segreta è pure quella seconda e penultima sfida da 10 stelline e elimina nemici e elimina nemici con fucili a pompa 4 nemici dicono di solito sono 5 qua ne vogliono 4 staremo a vedere non dovrebbe essere un problema neanche questa e ultima sfida ovviamente ragazzi lo sapete meglio di me quella di chillare della gente in un determinato posto nella mappa elimina nemici ad acri anarchici beh ragazzi queste erano le nuovissime speriamo vere credo di si sfide della settimana numero 9 che dovremo aspettarci sul nostro fortnite io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su mi raccomando se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao ciao